Musica Ai microfoni Globus Television sono con Sara Basso che si occupa, pensate bene, di gioielli, la mia passione. Allora, dove nasce la vostra azienda? L'azienda di Bassano del Grappa è stata fondata dai miei genitori nel 1987, quindi quest'anno festeggiamo 30 anni di produzione e lavoriamo solo ed esclusivamente l'oro, gioielli in oro. Che tipo di lavorazione? Allora, il nostro prodotto è conosciuto, i nostri gioielli sono conosciuti soprattutto per la performance che hanno, nel senso che soprattutto per quanto riguarda l'orecchino ha un grande movimento, tutti gli elementi sono composti in modo che quando si muove, quando ti muovi, l'orecchino si muove con te, quindi fa una grande luce, sono tutti molto appariscenti perché sono diamantati, appariscenti nel senso che riusciamo ad avere un grande effetto pur avendo degli orecchini anche molto leggeri, quindi questa è la nostra forza. Stasera a Tavomoda sfilerete con dei gioielli? Sì, sfilerete con tre parure, gli orecchini in primis, poi avremo una parure diciamo floreale e una parure invece un po' più rigida, nel senso che è più vistosa, un po' più nordica, è un collare molto alto, poi un bracciale dove c'è un grande effetto di luce.